Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Francesca e questa è una piccola rubrica con 5 mini lezioni legate al bullet journal. Nella prima mini lezione di questa rubrica bullet journal per principianti, vi ho anticipato il discorso dei simboli base del metodo bullet journal, che sono il punto per i compiti da fare, le cose da fare, la x per i compiti completati, le cose portate a termine, il segno maggiore per i compiti migrati, quindi spostati, il segno minore per i compiti programmati, la barra per cancellare un compito, una cosa da fare che è stata annullata o cancellata, il palino vuoto per l'evento e il trattino per segnare una nota. Questi simboli possono essere ovviamente cambiati, personalizzati e adattati alle vostre esigenze. Per esempio io utilizzo pochissimo le note o gli eventi, sono simboli che utilizzo veramente poco, ma utilizzo tantissimo il punto, la x, il cancellato, il migrato, questi sono i simboli che utilizzo più spesso e ho aggiunto dei simboli personalizzati, cosa che potete fare anche voi. Per esempio ho aggiunto il cuoricino quando vado a scrivere qualcosa per cui sono grata, il punto esclamativo quando c'è una cosa che devo vedere subito che è urgente e il punto interrogativo quando devo fare una ricerca su un determinato argomento o se mi viene uno spunto improvviso che poi devo approfondire. Quindi cercate di capire quali simboli fanno al caso vostro, se volete personalizzarli e aggiungerne altri e se ci sono dei simboli che non vi servono e che quindi potete eliminare dai simboli che utilizzerete nel vostro bullet journal. Inoltre potete inserire nei vostri simboli il color coding che non fa parte del metodo di base ma che è una personalizzazione interessante. È un po' come i simboli ma con i colori, quindi ogni cosa o per esempio ogni attività si riferisce ad un colore specifico e questo vi porterà sicuramente più colore nel vostro bullet journal e vi permetterà di personalizzarlo ancora di più, di renderlo ancora di più vostro. Inoltre utilizzando il color coding quando poi andiamo a sistemare le cose da fare nel diario del futuro o nella visione mensile, il colore ci permette di dare una visibilità maggiore a quella cosa, quindi di farla risaltare in mezzo a tutte le altre. E io lo trovo molto comodo proprio per questo, utilizzo il color coding specialmente per questo, per avere subito a colpo d'occhio ogni mese tutte le cose importanti del mese e questo potete vederlo nei video Plano With Me che vi pubblico ogni mese in cui appunto andiamo a preparare tutta la visione mensile. Come ho detto nello scorso video ci tengo a precisare che l'utilizzo di colori o di disegni nel bullet journal non è fondamentale e anzi vi consiglio di non usarli subito ma di integrarli nel vostro bullet journal una volta che avrete familiarizzato con i simboli di base e con il metodo di base. E soprattutto non esagerate con i simboli o con il color coding specialmente se siete all'inizio perché potrebbe passare dall'efficace funzionale al caotico e potrebbe diventare tutto confusionario. All'interno del mio corso bullet journal per principianti potete trovare un workbook di supporto da utilizzare appunto guardando le lezioni e in cui ho inserito anche una sezione dedicata proprio ai simboli e ai simboli personalizzati. E nelle dispense del corso troverete materiali scaricabili come template, tutorial per disegnare qualche doodle o per fare delle piccole decorazioni e pagine già pronte da stampare e inserire nel vostro bullet journal. È un piccolo ecosistema e ho creato anche un gruppo facebook dedicato riservato agli studenti del corso in cui possono appunto pubblicare domande, dubbi e postare foto e video delle loro creazioni sul bullet journal. Ne sono molto fiera ed è stato già tanto apprezzato dagli studenti che si sono iscritti. Vi lascio il link del corso sia nelle schede sia nella descrizione del video. Questa è stata la seconda di cinque mini lezioni sul bullet journal in cui vi parlo dei fondamenti di base del metodo e in cui vi do una piccola anteprima di quello che poi troverete all'interno del corso. Nella prossima mini lezione parleremo di tracker, cosa sono e a che cosa servono. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere il nuovo video. Grazie per la visione e alla prossima!